Buonasera di Patrizia Cavalli. Bene, vediamo un po' come fiorisci. Bene, vediamo un po' come fiorisci, come ti apri, di che colore hai petali, quanti pistilli hai, che trucchi usi per spargere il tuo polline ripeterti. Se hai fioritura languida o violenta, che portamento prendi, dove inclini, se nel morire infradici o insecchisci. Avanti su, io guardo, tu fiorisci.